Grazie a tutti. I grassi insaturi invece sono liquidi a temperatura ambiente ed è più frequente ritrovarli negli oli di origine vegetale come l'olio extravergine d'oliva o nel grasso dei pesci come il salmone, le acciughe. Sono molto importanti per il nostro corpo perché costituiscono le membrane cellulari e contribuiscono alla fluidità del sangue. In una dieta equilibrata i grassi dovrebbero rappresentare circa il 30% dell'energia che consumiamo, cioè più o meno 70 grammi di grasso. Questo non vuol dire però 70 grammi di condimento perché, come abbiamo già detto prima, i grassi sono naturalmente presenti in molti dei cibi che noi mangiamo.